ciao bella raga tu chi sei? megan e c'è megan io mi chiamo ciro faccio i video per tutti il mondo oggi porto una novità è troppo forte vero? si fortissimo vero megan oggi vi porto i zengavo i nostri begnamini allora ragazzi vediamo cosa è successo ai zengavo e noi ci vediamo dopo noi siamo tornati dalla palestra distrutti io capò ho fatto spinning oggi andrea ha fatto gambe quindi no rosa è più forte di tutti comunque in cosa? molla mai davvero? no ieri non ho fatto palestra però però avrei voluto farla poi ho detto forse non meglio vabbè demore adesso lo esageriamo ci stiamo vedendo che non è una serie su netflix che cos'è tipo un reality coreano dove fanno delle sono tutti dei campioni tipo olimpici dei anzi attori anche famosi certo e si sfidano con delle prove fisiche allucinanti e ci siamo intrippati male questa cosa solo che adesso dobbiamo aspettare il 31 gennaio per vedere le puntate dopo ciao ciao ragazzi allora io vi do un abbraccio e vi do un fotte bacio grazie 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 che vi state scrivendo mi raccomando scrivete sempre qualcosa di importante in questo video mi aspetto tantissimo voi siete la ragione in cui faccio questi video io ringrazio col cuore ma tu non vai a dormire megan? sono no sono rischi del mestiere nuovo utente principale ora io se questo video vi piaciuto ragazzi scrivete un commento qua e mettetemi un like ciao